Visaggio in vista all'aeroporto di Viera del Corallo. E' previsto infatti per domani, dalle 12 alle 16, uno sciopero di 4 ore indetto dagli assistenti di volo iscritti ai sindacati Filt CGL, Filt CISL e UILT della compagnia Air One, nonché dei piloti e dagli assistenti di volo della Filt CGL di Air One City Liner. Due i voli a rischio che interessano da vicino al Ghero, quello in arrivo da Roma e Fiumicino alle ore 13, parte a mezzogiorno, e quello in partenza per la capitale alle 13.45. Grazie a tutti.